Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi andiamo a studiare un match che onestamente non mi sarei aspettato di studiare perché credevo nel giorno di mercoledì, mi sembra, che l'Ucraina sarebbe stata eliminata dalla Scozia per gli spareggi mondiali. Invece, a dispetto di tutta la tragedia che si sta vivendo comunque nel paese, l'Ucraina ha sorprendentemente battuto addirittura 3-1 la Scozia e si trova quindi in questa finale, chiamiamola così, di spareggi con il Galles per chi va ai mondiali. Quindi, questo rumore di sottofondo che avete sentito è il cane che ha smontato la cuccia, va bene, vado a vedere che ha combinato. Quindi dicevo, Ucraina che sorprendentemente si trova ad affrontare il Galles e visto che è la finale dello spareggio, di questo spareggio, ho pensato di studiarla al superfoglio. Tra l'altro, devo dirvi, in questi giorni ha fatto molto scalpore e sta facendo tuttora scalpore questa nuova tecnica che abbiamo individuato che probabilmente, forse, potrebbe essere considerata una delle più importanti stavo per dire letali, però non usiamo termini di questo genere diciamo una delle più importanti perché siamo riusciti ad effettuare un vero e proprio hackeraggio del sistema dei bookmakers perché adesso, non so se l'avete già vista oppure no, adesso ve la faccio vedere sostanzialmente noi andiamo ad individuare delle partite in cui il bookmakers ci vuole far credere che ci saranno pochi gol, no gol e under perché le statistiche e perché le tendenze di quelle partite, di quelle squadre sarebbero proprio da no gol e under quindi lui ci inganna basandosi sulla statistica effettiva di quella partita e poi invece, più che spesso, si verifica l'esito gol e in alcuni casi anche l'esito over pagati a quote altissime vi faccio vedere, tanto per capire di che stiamo parlando questa è la schedina che ho ricevuto stamattina da un ragazzo del nostro gruppo e come potete vedere la quota dell'esito gol è 2.10 se andate a vedere l'orario, in questo momento sono le 10.20 del mattino se andate a vedere l'orario, questa partita in questo momento in Giappone, credo adesso la andiamo a vedere sul superfoglio in serie B giapponese cominciava alle 9.20 stavano 1-1 alla fine del primo tempo quindi alla fine del primo tempo avevano già preso l'esito gol mi sembra alla fine del primo tempo non vorrei dire una stupitaggine a questo punto però mi sembra proprio di sì e quindi c'è una partita in cui anche le statistiche andavano sui pochi gol quindi l'inganno è proprio fatto bene da questo punto di vista e però si riscontra questo che abbiamo appena visto come funziona la tecnica? la trovate spiegata sul blog si chiama Super Goal è l'ultimo articolo che ho pubblicato pronostico gol a quota altissima perché non lo so, più alto di 2.10 non credo che lo troveremo mai pre-match cioè prima che il match cominci quindi questa è una cosa che può essere utilizzata anche in modalità exchange o comunque sfruttando la modalità exchange senza necessariamente giocare sui bookmaker exchange faccio un esempio gioco l'esito gol a questa quota così alta segnano subito una delle due il primo gol posso andare a fare la copertura no goal live sicuramente ad una quota alta perché cambiano ovviamente le dinamiche quindi è veramente molto interessante l'abbiamo scoperta da poco cioè l'abbiamo pubblicata da poco quindi va affinata, va controllata va giocata in maniera responsabile però è veramente molto interessante perché le quote che offre sono veramente alte e quali sono i requisiti di questa tecnica? allora innanzitutto c'è la doppia metrica FOSO che sarebbe semplicemente forbice e super over sono entrambe metriche che portano all'esito gol prese singolarmente quando le prendiamo in combo in questo modo sta diventando molto importante però ci si deve aggiungere la valutazione del superfoglio sul multigol 1-3 o sull'under 3 e mezzo se qui trovate un'altra voce che non sia una di queste due la tecnica è meno performante allo stesso modo ci deve essere nella valutazione della 1x2 la parola rischia quindi rischia 1x rischia x2 rischia 1x2 l'ultimo elemento non meno importante nella statistica dell'under over quindi come vedete qui l'under per esempio ce lo stava dando a 1,50 ci voleva far credere che era una partita da under e magari finirà 1-1 quindi sarà anche una partita da under le statistiche pesantemente andavano sull'under perché era del 60% noi dobbiamo andare a vedere la statistica dell'over 1,50 e deve sostanzialmente essere maggiore del 62-63% questo adesso è un dato è il più variabile dei dati nel senso che magari adesso 62,2 è proprio al limite però magari entrava anche a 61,5 o magari a 64 una volta non entra cioè non è che le prendi tutte e se devi stare col bilancino 61,9 non va bene cioè ragazzi non è che entriamo nella capoccia dei bookmakers bisogna un attimo essere sempre flessibili su questa cosa sicuramente bisogna cercare di non scendere troppo con l'over 1,5 quindi sicuramente non sotto il 60 preferibilmente dal 62-63% in su e poi sempre giocare con un minimo di intelligenza e di attenzione cioè se ho 100 euro di budget non è che gioco 100 euro sulla prima partita che trovo così di questa tecnica o allo stesso tempo se ho 100 euro di budget non è che faccio una multipla con 10 partite di questa tecnica e ci gioco di 100 euro cioè cominciate a capirla a comprenderla a testarla se ho 100 euro di budget con 5 euro se ho 100 euro di budget con 10 euro non è che ci metto 80 euro cioè il betting resta sempre una cosa giorno 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 eccetera eccetera ok quindi questo ci tenevo a dirlo detto questo fatta questa presentazione poi magari faremo un video apposito su questa tecnica e la ristudieremo con calma ci andiamo a prendere la partita di domani dell'Ucraina e andiamo a vedere se può effettivamente fare anche questo piccolo miracolo di qualificarsi ai mondiali allora questa partita per esempio rispetta tutte e tre le le valutazioni che ci servono però l'avevo vista prima aveva più basso questo il 66% dell'over poi evidentemente sono cambiate un po' le dinamiche interne e l'over sta salendo la percentuale vi ricordo che sulle coppe l'algoritmo è solo basato sulle comparazioni affini quindi se queste quote variano se gli allibramenti variano si muovono anche le statistiche mentre nei campionati ci sono anche le statistiche dei campionati che tendono a rendere più stabili tutta la situazione nelle coppe si possono vedere i livellamenti quindi in questo caso io sulla coppa ancora non l'abbiamo valutata questa tecnica quindi ci starei un attimo attento nell'ultimo match quello Scozia-Ucraina c'era effettivamente questa tecnica rispettava tutti i parametri ed è finita 1-3 quindi ha mantenuto le promesse su questa considerando anche che è comunque una finale per accedere io sulle finali valuto sempre anche l'aspetto emotivo quindi l'attenzione e la pressione psicologica che un match mette quindi non lo so non credo che faranno 25 gol però magari un over 1.5 ci può stare perché è vero che la tecnica noi l'abbiamo individuata per l'esito gol però ragioniamo anche sul fatto che se una volta vogliamo rischiarla meno potremmo giocare l'over 1.5 perché comunque con l'under pagato a 2.5 l'over 1.5 scusate con l'under 2.5 pagato a 1.53 e quindi l'over a 2.40 l'over 1.5 diventa comunque una quota intorno all'1.50 una bella quota non non è una da scartare quindi non è detto che tutte queste partite con questa tecnica dobbiamo giocare gol più over a quota 5 cioè anche in questo caso ci va sempre un minimo di intelligenza essere cautelati e giocare in modo opportuno però insomma su questa ce la possiamo tenere la possibilità di un paio di gol un paio di gol che in effetti ce rivaluta anche lui nei risultati esatti ed è molto difficile in realtà capire le valutazioni qui per chi passa questo questa finale per chi andrà ai mondiali allora io qui farei una valutazione emotiva più che tecnica perché i numeri sono molto molto equilibrati 33 27 38 le quote bookmakers in questo momento è vero che giocano domani sera quindi si può ancora vedere parecchio movimento però sono piccoli movimenti a quote molto alte quindi non abbiamo nessun parametro particolare secondo me dobbiamo valutarci su quello che abbiamo visto contro la Scozia ossia un'Ucraina che anche proprio per orgoglio nazionale ha qualcosa in più probabilmente da dimostrare sul campo quindi io la sposterei al novantesimo sulla X2 e visto che abbiamo presentato questa configurazione della tecnica i parametri sono tutti rispettati potremmo metterla X2 over 1,5 verrebbe fuori secondo me una buona quota con una giocata abbastanza cautelata da questo punto di vista quindi io la accenderei sulla X2 e sull'over 1,5 vediamo un attimo il goal giusto per ecco per esempio il goal ci propagherebbe comunque tanto a quota 2 statisticamente sarebbe leggermente favorito il no goal col 52% 53% quindi la statistica è molto equilibrata in questo senso basandosi sul fatto che è una finale io non lo rischierei il goal o l'over preferirei l'over 2,5 preferirei una X2 over 1,5 e quindi me la accendo in questo momento sull'over 1,5 poi ovviamente come sempre le partite vanno studiate il giorno stesso in cui si giocano quindi questa si gioca domani alle 18 andrebbe studiata domani alle 18 no non domani alle 18 ma domani magari alle 12 alle 13 andrebbe studiata qualche ora prima e credo che per questo video abbiamo visto tutto e ci possiamo salutare e vedere nel prossimo video